che è una qua sopra che ti devo colpire lancerazzo no c'è una trappola chi l'ha messa no nino vieni qua veloce a scuola il vestito c'è chi lo attiene 1 abbiamo le prendiamo le bende le prendi tu ci sono dieci bende ci sono non ne abbiamo cosa fortino no abbiamo dieci bende vero abbiamo pieno da corso ne avete materiali 69 di legno e 43 di mezzo grazie big e grivo se ne sta andando sulla montagna fabbio che vuoi fare si è una brutta idea però ma se voi avete 40 di legno siamo cinque siamo fabbio di cui noi siamo tre lo so vediamo se noi potremmo fare ammazzate tu l'hai detto non mi venite nel mio fortino per cortesia non è che sono qua sopra non mi scassarai eh io sono finito sono senza materiale questa partia la perdiamo si lo so da mi ho fatto ammazzare si ricontra due sceligo perchè non guardi a me cosa sta facendo ma che sogno attaccato non sa come esce beh siamo nel bosco sicuro questi qua andiamo nel bosco però siamo tre contro due no 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 non andate nel bosco stavolta che cazzo è sto grivo grivo state qua figliate l'ordone niente da voi bisogna vedere dove si chiude la zona ah l'ho visti 282 quanto pare l'italiano disgraziato 298 è dietro questa montagna insomma ma l'alettro 82 di 85 sopra di te sono ma ne ha morto io ne vedi vabbè minchia che è fissa come mi ha salvato squattendo quando! vabbè 192 e l'alettro uncale uscito 2 due veole 2 lerla 4 00 endas 3 PayPal Intel 那 esper SQL يرє nella ecco permesso l'ultimo l'ultimo grazie Ma che state compi... Forza è che io... Reale! Reale! Ma da quel culo rotto! Reale! Reale no! Reale! Minchia di puttana! Anni da mare! Ma andiamo in serio! Si! Si! Forza puttana! Minchia non voleva morire! Minchia Fabio che cazzo...